Buon pomeriggio, anche se c'è qualcosa... Ok, ecco qua, era scomparsa la cosa. Buon salve, buon salve, mi vedete di nuovo con la luce del giorno, con la luce del giorno e anche una luce dall'altra parte perché altrimenti sembrava veramente doppia faccia. Kuja, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Ho avuto ovviamente dei piccoli problemi durante il pre-live, quindi del tipo che mi sono dimenticato di aprire delle cose, ovviamente questo ha inficiato lo streaming, ma l'ho riavviato, quindi ora dovrebbe andare tutto perfettamente liscio. Si torna Innistrad, tra molto poco, tra mezz'oretta, partirà il video di debutto. Tra mezz'oretta partirà il video di debutto, ma prima, prima di ciò, ho qualche paginetta, me ne sono appena poco fitta, dove appunto volevo ragguagliare chi non fosse a conoscenza della storia di questo piano. La vera Innistrad senza Eldrazi, esattamente, esattamente Kuja. Quindi, aspettiamo giusto un 5 minuti, il sole è sparito, va bene, adesso ho questa bellissima luce molto spettrale, quindi in realtà ci sta, in realtà ci sta. Tocca alla comparsata firexiana. Dark Jiraiya, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Do il benvenuto a tutti coloro che stanno arrivando. Come dicevo, aspettiamo un 5 minuti circa, quindi alle 35-36. Partiamo con, prima appunto di reintrodurci nuovamente a Innistrad, che cosa successe su Innistrad, cosa è successo le altre volte che ci siamo già stati. In che modo ha anche un piano che è molto amato anche dai giocatori, non solo per il gameplay, che quello ovviamente ha una grandissima parte. Alessio, treiron, buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Quindi che cosa è successo su Innistrad? Perché è importante e diciamo anche semplicemente per dire da dove arriviamo, qual è l'ultima volta che siamo stati su Innistrad, come l'abbiamo lasciato, che penso sia abbastanza importante anche solo per capire e trovare dei collegamenti, essenzialmente. Quindi, come dicevo, aspettiamo un attimino. Io nel frattempo vi ricordo che se volete seguire quello che faccio oltre a quello che faccio qui su Twitch, quindi tra molto poco, quindi appena finita la live essenzialmente, gli spoiler anche tradotti, anche perché ne sono già usciti e non credo verranno tradotti prima di domani. Comunque, qua sotto trovate tutti i social, Facebook, Twitter e YouTube. Su YouTube rimetto le live dopo circa cinque giorni. E in più, qui su Twitch, che cosa faccio? Oltre a serate spoiler, piuttosto che vediamo il debutto, eccetera, eccetera, le letture delle storie di Magic. Ho deciso di intraprendere questa cosa andando a prendere proprio le Magic Story, dove ci sono, altrimenti le novel, tradurre dove c'è bisogno di tradurre, sistemare le traduzioni dove c'è bisogno di sistemare le traduzioni, e leggerle insieme a voi e poi avere una discussione, essenzialmente, parlarne. Abbiamo appena finito la saga di Magic Origins, quindi la ritrovate sia qui su Twitch, ma anche su YouTube, dove c'è la playlist apposita. La settimana prossima si inizia con il prologo di Battaglia per Zendikar. Poi, diciamo, andando avanti, man mano vi aggiorno su come voglio gestire poi le varie storie. In più vi ricordo che se volete supportare ulteriormente il progetto e tutto quanto, potete fare una sub qua su Twitch, anche perché da questo mese, e penso vita natural durante, i costi di iscrizione in Italia sono diminuiti di un euro, quindi vi conviene, ovviamente, se non avete già Amazon Prime, che vi permette di farla gratuitamente. Bene, ho fatto anche la marchetta, che mi dimentico sempre di farla, e io direi che, se siete d'accordo, posso introdurvi a quello che è Innistrad, o, insomma, quello che sappiamo e quello che abbiamo già vissuto su Innistrad, intanto che aspettiamo l'arrivo della live vera e propria. Quindi, poi ditemi se anche queste mini riassunti possono piacere, che, appunto, potrebbe essere una cosa da ripetere quando, che so, torniamo a Kamigawa l'anno prossimo, possiamo rifare prima del debutto di Kamigawa un piccolo riassunto. Allora, io mi sono preparato una cosa da leggere, essenzialmente, dove c'è quasi tutto, le cose importanti, non vado nei dettagli e non mi dilungo, anche perché, appunto, non abbiamo tantissimo tempo, però penso che sia una cosa che serva. Eventualmente, col fatto che la sto facendo adesso, molto presto, non chiacchiero tanto come al solito, spero, eventualmente, chi arriverà dopo, se la può guardare su YouTube in un secondo momento, in maniera più tranquilla. Allora, intanto si parte dal blocco Innistrad originale, quindi la prima volta che ci siamo stati, ormai dieci anni fa, nel 2011. La prima volta che veniamo introdotti al piano di Innistrad ci ritroviamo in un piano oscuro, dove le creature della notte braccano costantemente i pochi abitanti umani del piano. E abbiamo specifiche, in un certo senso, creature della notte, che però sono sempre, diciamo, dedotte dai nostri classici film horror, chiamiamola così. Nello specifico abbiamo lupi mannari, che assediano i villaggi durante le notti di luna piena, spiriti vendicativi, che sfogano la propria disperazione sui viventi, per non aver trovato la pace nella morte, vampiri immortali, che dominano intere regioni sicibano dei propri sudditi, e soprattutto orde di zombie, il cui unico scopo è cibarsi delle carni degli umani. In più, come se tutto questo non bastasse, ci sono anche diversi demoni. Uh, prototype! Grazie mille della sub! 18 mesi, è un sacco. E ci sono quindi terribili demoni e diavoli che si generano dalle profondità della terra e che irretiscono le deboli menti umane, creando veri e propri culti. Ma nonostante tutto, tutte queste bestie, l'umanità resiste, seppur sul filo del rasoio, grazie all'aiuto di alcune schiere angeliche e alla magia protettiva alimentata dalla fede nel loro arcangelo, che è Avacin. Quindi l'umanità resiste perché la magia protettiva, comunque, è alimentata dalla fede verso quest'unica figura centrale di, diciamo, buona, in un certo senso. Però, quando arriviamo a Innistrad la prima volta, la situazione è un po' non buona, perché Avacin è sparita da qualche tempo, non risponde più alle preghiere, non si trova da nessuna parte e quasi nessuno sa che fine abbia fatto, perché non ha lasciato alcuna traccia. L'evento, purtroppo, è sufficiente a creare un indebolimento di tutte le difese che gli umani utilizzano per contrastare gli orrori della notte, in quanto la magia e la forza anche degli stessi angeli, degli altri angeli, è alimentata dalla fede nell'arcangelo principale e quest'ultima sta iniziando a vacillare data la sua prolungata assenza. Questo, quindi, comporta un lento e inesorabile avanzamento delle forze oscure, che ben presto potrebbero sopraffare gli umani in via definitiva. La chiesa di Avacin, inoltre, perché ovviamente c'è un culto comunque attorno all'angelo, non fa sapere nulla e quindi il panico si diffonde tra la popolazione man mano che il tempo passa senza avere notizie del loro angelo principale, riducendo ancora di più la potenza degli incantesimi e la forza degli angeli rimasti. Al punto che l'unico punto virtualmente sicuro di tutto il piano rimane essere solamente la capitale degli umani che si chiama Raben, nonché sede centrale della chiesa di Avacin dove i suoi catari che sono essenzialmente i soldati sacri e i suoi sacerdoti potevano ancora esercitare abbastanza potere. ben presto però anche questa certezza viene spazzata via perché un'immensa armata di zombie assedia la città per tentare di raderla al suolo quindi durante il primo blocco di Innistrad succede questa cosa questo è l'evento diciamo principale come premessa c'è tutto il fatto che Avacin è scomparsa questa armata però è il risultato della collaborazione di due necromanti diciamo famigerati all'interno del piano che sono Giza e Geralt Cecani due fratelli appunto necromanti perennemente in lotta tra loro per dimostrare la supremazia del proprio modo di creare creature non morte infatti Giza la sorella è una evoca ghoul piuttosto potente e si affida alla pura magia necromantica per rianimare enormi quantità di morti Geralt invece suo fratello è uno scienziato cosiddetto scaberen o cucitore e si affida alle proprie conoscenze ed apparecchiature per modificare migliorare e rianimare i morti diciamo che lui è un più un Frankenstein un dottor Frankenstein questo assedio però come se non bastasse esatto Kuja lui è il creatore di Gringrin come se non bastasse Geralt riesce prima dell'assedio a sgattaiolare all'interno di Thraben e riuscire ad assassinare perfino Micheus che è il capo della chiesa quindi è diciamo sconforto generale comunque tra tutti gli abitanti della capitale dopo aver anche scoperto questa cosa ma una speranza era rimasta all'interno della capitale nella persona di Thalia braccio destro del guardiano di Thraben ufficiale che è un cataro di nome Lothar lei è una delle catare più promettenti che diciamo non si vedevano da molti anni si distingueva per il suo valore la sua mente strategica e il numero di orrori notturni sconfitti Doc Giga buon salve come ufficiale della capitale aveva al suo comando una squadra di catari d'elite che a stento è riuscita ad arginare l'invasione degli zombie nella città seppur comunque con un conseguente sfondamento delle mura della città stessa l'avanzata degli zombie però non si arresta quindi Thalia escogita un piano estremo attirare la maggior parte delle forze non morte in un quartiere della città opportunamente preparato e dare fuoco a tutto quanto chiudendo gli zombie all'interno di un cerchio di fuoco il piano ha successo nonostante la distruzione comunque di un intero quartiere e le forze degli zombie ormai decimate si ritirano falciate completamente dai catari rimasti Lothar purtroppo durante la battaglia viene ucciso tormentato da alcuni spiriti che lo portano alla morte e Thalia eredita il titolo di guardiana di Thraben ufficialmente col sacro compito di proteggere un qualcosa di particolare che è l'Hellvolt questo Hellvolt è un enorme monolito d'argento al cui interno sono imprigionati innumerevoli demoni che altrimenti si rigenererebbero se uccisi normalmente essenzialmente Avacin per evitare che i demoni si rigenerino li buttava dentro questo Hellvolt ma un'altra persona sta puntando all'Hellvolt ed è Liliana Vess la potente necromante infatti si trova su Innistrad per liberarsi dai vincoli dei contratti stipulati con quattro demoni per ottenere l'immortalità e il potere e questo l'abbiamo visto con le storie di Origins Greg buongiorno dopo aver ucciso il suo primo demone Cothothed Liliana ha viaggiato su Innistrad per sistemare il suo secondo padrone che è l'arcidemone Griselbrand Liliana inoltre al contrario d'Italia e di maggior parte dei catari della società umana di Innistrad conosce l'ubicazione di Avacin e il motivo della sua scomparsa l'arcangelo infatti poco tempo prima ha combattuto proprio contro Griselbrand per interi giorni riuscendo però a portarlo nelle vicinanze dell'Hellvolt e infine a intrappolarlo al suo interno il problema è che Griselbrand all'ultimo secondo riuscì ad avvinghiare a sé Avacin stessa trascinandola insieme a lui nel monolito quindi Avacin è rinchiusa all'interno dell'Hellvolt per quello non si trova più alla rivelazione di questa verità Liliana evoca una magia di morte su tutti i sottoposti d'Italia intimandole di distruggere l'Hellvolt perché solo il guardiano di Traben e pochi altri hanno il potere di rimuovere le protezioni dal monolito pena la morte dei suoi compagni Talia diciamo è comunque combattuta fino all'ultimo ma alla fine decide di dare priorità alle vite umane e indicando l'Hellvolt con la mano quest'ultimo esplode liberando sì tutti i demoni fino a quel momento imprigionati all'interno ma anche Avacin stessa ovviamente che finalmente poteva ridare speranza all'umanità intera tant'è che la sua mera presenza fu sufficiente per ripristinare nuovamente ogni tipo di protezione magia e fede nel giro di poche ore e quindi l'umanità torna a sentirsi sicura contro gli orori della notte ripristinando l'equilibrio generale e questo è come siamo alla fine del blocco in stato originale e dopo Avacin Restored dopo il ritorno di Avacin esatto devono ringraziare Liliana in un certo senso mentre passiamo al ciclo dopo ossia ombre su Innistrad intanto fatemi controllare che non sia partito niente no perfetto fatemi voglio essere sicuro ok mi sembra tutto a posto e andiamo su ombre su Innistrad allora passa circa un anno dalla fine degli eventi di Innistrad originale all'inizio di ombre su Innistrad quindi c'è un anno essenzialmente di equilibrio di pace in un certo senso e diciamo dopo un anno Avacin senza star lì ripeto queste sono sintesi più che altro quindi non spiego tutta l'ambientazione tutto il contesto diciamo che Avacin a un certo punto improvvisamente senza alcun perviso avverte un disturbo nei suoi pensieri una sorta di voce o ronzio che la altera arrivando fino a portarla alla pazzia distorcendo il concetto stesso per cui era stata creata doveva distruggere i mostri di Innistrad era quello il suo scopo ma anche gli umani insiti peccatori sono da considerarsi mostri e fu così che iniziò la discesa nella follia di tutte le schiere angeliche in quanto dipendevano comunque in un certo senso da Avacin stessa che iniziarono a sterminare gli umani che non si adeguavano alla nuova linea di pensiero dell'arcangelo portando addirittura alla creazione di una sorta di inquisizione da parte della chiesa stessa quindi degli umani per aiutare gli angeli nella loro nuova opera e per non venire trucidati a loro volta proprio perché non si adeguavano a questa cosa per spiegare l'origine di questa follia e gli eventi successivi della storia però dobbiamo tornare un po' indietro addirittura prima della riparazione prima del mending quando un già antico Sorin Markov cercava di contrastare i titani Eldrazi insieme alla litomante Nairi di Zendikar dopo l'ennesimo fallimento per tentare di salvare un altro piano divorato dai titani i due vengono contattati da un altro planeswalker molto potente Ugin lo spirito drago secondo il drago c'era un modo per porre fine alla distruzione degli Eldrazi ossia legare la loro forma fisica ad un piano ed imprigionarli ad esso Nairi quindi si offre di diciamo offre il proprio piano Zendikar come prigione per questi mostri attirati dal suo mano abbondante solo per poi ritrovarsi in una prigione di Edri creati da Nairi investiti della conoscenza magica di Ugin e legati agli Eldrazi stessi dalla magia del sangue di Sorin per porli in uno stato di letargo imperituro così che non potessero devastare più altri piani quindi riescono a imprigionare i tre Eldrazi all'interno di Zendikar i tre Planeswalker affidano a Nairi il compito di sorvegliare la prigione e assicurarsi che i titani non ne uscissero e nel caso ci fossero stati problemi Ugin aveva elaborato un sistema per contattare gli altri due Planeswalker qualsiasi fosse la loro posizione nel multiverso nello specifico la sala dell'occhio di Ugin dopo millenni di calma ad osservare il suo piano natio Nairi percepisce che una delle celle si è indebolita e le progenie di Ulamog sono riuscite a eludere alcune difese riversandosi su Zendikar Nairi quindi prova a contattare i suoi due compagni ma non riceve alcuna risposta è quindi costretta ad affrontare le progenie da sola insieme agli abitanti di Zendikar riuscendo infine a respingerle e risigillare la prigione non capendo il motivo della mancata risposta dei suoi due alleati esegui un viaggio verso Innistrad per parlare con Sorin che era anche il suo mentore qui lo ritrova con poche forze di fianco ad un enorme monolito d'argento e con un angelo al suo fianco Sorin infatti per evitare che gli Eldrazi potessero prendere di mira a Innistrad aveva instaurato delle difese a livello planare scoprendo con l'arrivo di Nairi che ciò impediva anche il propagarsi di incantesimi diretti verso Innistrad dal multiverso l'origine di Avacin è quindi chiara è una creazione di Sorin sia come catalizzatore di queste difese sia per portare l'equilibrio tra luce e oscurità nel suo piano natale che altrimenti avrebbe rischiato di vedere estinguersi la sua stirpe qualora gli umani si fossero completamente estinti purtroppo Sorin non fa trasparire nulla di tutto questo a Nairi e afferma che le preoccupazioni di lei siano inutili e che non dovrebbe lamentarsi eh no Hugin era già morto Greg per quello non ha risposto questo fa infuriare Nairi ovviamente che pensava che Sorin fosse un suo alleato e un suo amico quindi parte un duello che si conclude con l'imprigionamento di Nairi all'interno dell'Elvolt appena creato in questa stasi Nairi attende secoli interi progettando la propria vendetta contro Sorin unica cosa che la mantiene lucida con la distruzione del monolito l'anno precedente quindi la fine di Innistrad anche Nairi fu finalmente libera e viaggia subito a Zendikar per capire per vedere cosa è successo se è ancora sicura e vede purtroppo che gli Eldrazi erano liberi e seminavano distruzione sulla sua casa definendo Zendika ormai perduta Nairi giura di far patire le stesse sofferenze anche a Sorin e quindi mette in atto il suo piano la litomante torna infatti su Innistrad e grazie alla sua magia altera le ley line del piano in modo che il mana converga tutto in un unico punto questa alterazione delle ley line è parte di ciò che ha causato l'innesco della follia di Avacin essendo l'angelo principale legato alle ley line del piano e anche legato al piano stesso combinata alla causa della presenza di altre situazioni insolite che stavano verificandosi su tutto il piano come per esempio delle mutazioni del corpo nella mente delle persone e altre strane cose nel frattempo fa il suo arrivo sul piano Jace Beleren reduce dalla sconfitta di Ulamog e Kozilek su Zendikar insieme ad altri planeswalk che sono riusciti a sconfiggere gli eldrazi che erano su Zendikar è venuto infatti alla ricerca di Liliana per convincerla ad unirsi ai suoi altri alleati per scovare e sconfiggere anche l'ultimo titano Emrakul Liliana non si fa incantare e rifiuta l'offerta quindi Jace passa al prossimo possibile alleato su questo piano Sorin Markov purtroppo andando alla residenza della famiglia Markov la trova completamente riplasmata con centinaia di vampiri morti incastrati nelle mura all'interno da cui Jace trova un diario di un'altra planeswalker Tamillo che stava annotando tutte le stranezze che stavano accadendo sul piano decifrando il diario Jace arriva al luogo di convergenza delle leyline arrivando a collegare la follia di Avacyn a questo procedimento inizialmente sospettando di Liliana dopo un confronto con lei si ricrede e decide quindi di andare ad interpellare Avacyn stessa nella chiesa di Traben sperando di curare la sua follia con la propria magia mentale e infine incontrare Sorin nel frattempo il planeswalker vampiro capendo benissimo che dietro tutto quanto ci fosse Nairi chiede aiuto a Olivia Voldaren per creare un esercito di vampiri e porre fine alla vita della litomante Olivia accetta ma ad una condizione Sorin avrebbe dovuto prima distruggere Avacyn così da potersi considerare perdonato da tutti i vampiri del piano Sorin accetta le condizioni Jace nel frattempo penetra nella cattedrale di Avacyn ritrovando Tamillo al suo interno e convincendola a confrontarsi contro Avacyn per trovare le risposte alle sue domande e la fonte della sua follia ed è proprio allora che Avacyn furiosa sfonda una vetrata della cattedrale per attaccare i due planeswalker avvertendo la loro presenza come estranea fortunatamente nello stesso istante anche Sorin fa il suo ingresso dal soffitto colpendo l'arcangelo dall'alto e sfondando il pavimento della cattedrale per finire nelle catacombe il luogo stesso della creazione di Avacyn e dopo aver provato a convincere la parole tristemente lancia un incantesimo che letteralmente disfa l'angelo cancellandolo dall'esistenza ma questo era tutto secondo i piani di Nairi in quanto Avacyn era l'ultimo catalizzatore rimasto per le difese del piano permettendo al suo vero piano di compiersi il mana era stato confluito in un unico punto per attirare Emrakul stessa su Innistrad e vederla seminare distruzione sul piano proprio come gli altri titani avevano fatto con la sua amata Zendikar dopo aver richiamato i planeswalker guardiani a difesa di Trabben l'avvicinamento fisico di Emrakul era ormai inesorabile facendo proliferare le mutazioni che la sua sola avvicinanza aveva provocato in tutti gli abitanti del piano rendendoli di fatto sue progenie alla vista di Trabben ormai condannata e senza più nulla da perdere Sorin finalmente si confronta con Nairi ma viene sconfitto venendo incastrato in un muro per godersi la vista dell'eldrazi che attacca la capitale degli umani Nairi soddisfatta della sua vendetta se ne va da Innistrad lasciando da solo Sorin ma è proprio in questo momento che fa il suo ingresso Liliana che grazie al potere del velo riesce a evocare un'incredibile armata di zombie per proteggere Trabben e permettere ai guardiani di avvicinarsi ad Emrakul ma appena questi si avvicinano la potenza mentale dell'eldrazi li travolge lasciando solo Jace semicosciente in una sorta di palazzo mentale dove parla con Emeria la rappresentazione angelica distorta di Emrakul dell'antichità di Zendikar usciti da questa sorta di illusione grazie all'arrivo di Tamio la lunantropa spiega che il potere dell'Elvolt di imprigionare creature al suo interno deriva proprio dalle proprietà della luna di Innistrad e quindi combinando la propria magia ed utilizzando una mistica pergamena Tamio e gli altri riescono ad imprigionare Emrakul nella luna di Innistrad la minaccia era stata eliminata ma Tamio condivide uno strano evento con Jace e con lui soltanto il suo intento non era mai stato quello di imprigionare Emrakul all'interno della luna ma di distruggerla grazie alla magia della sua pergamena apparentemente Emrakul si era impossessata mentalmente di Tamio riscrivendo la pergamena in modo che diventasse una magia di imprigionamento e abbia deciso di isolarsi in autonomia questo fa venire in mente a Jace una frase che Emeria gli disse durante la sua trans questo mondo non è ancora pronto per la mia venuta per ora l'eldrazi non sembra intenzionato a mettere i suoi tentacoli sul piano e Innistrad dopo questi avvenimenti è rimasto parecchio scosso con un'unica schiera di angeli rimasta quella di Sigarda che in qualche modo era stata toccata in maniera minima dalla follia di Avacin dato il suo distaccamento dall'arcangelo e la sua concentrazione sul proteggere gli umani piuttosto che essere vicino agli altri angeli perfetto sono le 6 sono le 6 ok 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 fatemi fatemi allora perché non mi sta aspettate eh perché non mi sta facendo posso ricaricare la pagina mi sta facendo vedere un altro streamer che stava streamando ma non non oddio è già partita è già partita eccoci eccoci è appena iniziato arrivo eh arrivo 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 eccoci qua ok sono appena entrati eh così va bene perfetto devi diventare quello che temi Jimmy è un'interessante e qui abbiamo Maris Malayly il narrativo design manager a Wizards of the Coast hi Maris buon suar buon suar devo andare prima del tramonto bellissimo setting comunque comunque ok dice comunque è un piano pericoloso ma l'avevamo capito lupo ulula e castello ululi confermato che non ci sono gli Eldrazi e che torniamo al gothicoro ok ok quindi questo Harvest Tide ha venuto per cercare di aiutare gli umani perché quando si messa con la luna si inizia con il ciclo e le cose stanno scurri e le chances che gli umani hanno di survivre è più difficile ok quindi c'è questo festival per cercare di far tornare il ciclo giorno-notte come era prima ok quindi la luna ha messo con le conseguenze sono succedenti sì che sono le altre cose che erano veramente importanti quando venivate in Nishra che pensate che avevamo e quindi ci sono le streghe ma streghe sono buone che aiutano gli umani ho messo a full screen ok c'è letteralmente una festa un festival che bel che bel design eh sì ok quindi col fatto che adesso la chiesa è più debole non sono più sacerdoti gli unici maghi ma ci sono gli stregoni e le streghe figo e dei jeans però che belle ma che belle art sono ci vuoi fare i grattini a questi lupi i lupi non sono stati invitati quindi sono arrabbiati giustamente che bello ma sono porca miseria proprio proprio bello da vedere ok i catari ci sono i grattini in wifi quindi i warlock e le streghe sono tornate alla magia antica prima dell'arrivo di avacin suppongo i vampiri stanno guardando e guardando cosa i vampiri facciano interessati in questa longa notte interessati in il crescere che si sentono ok anche i vampiri ovviamente hanno vantaggio dal fatto che la notte sia più lunga ma per ora lasciano fare il lavoro sporco ai attenzione zombie uuuh ah 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 ok un commander ma fatemelo leggere fatemelo leggere ok e non può bloccare quando attacca sacrificano e non può bloccare quando attacca ah ah gattini handless ok disturb puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero ah trasformata bello è un flashback cioè un flashback transform dal cimitero bello esatto non hanno riciclato un'altra 4-4 volare cautela sta per essere messo in un cimitero esiglialo ovviamente perché altrimenti lo rianimì all'infinito bello perché muori il vecchio e poi tu dal cimitero evochi lo spirito bello 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 mi piace il meccanico e mi sento che con questi due set cimitero bisogna finalmente essere enough cartes per fare un transform dec happen è bello 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 questo è stato un fantastico guarda il plane e le creature di midnight hunt ok vediamo questo festival un evento di una settimana con un rituale ok quindi è un rituale per cercare di sistemare il casino della luna perché ovviamente c'è qualcosa nella luna e poi ha detto i celestus quindi sono è una delle figure comunque che però ha detto non vi diciamo di più quindi sono questi celestus ok Quindi Ok Quindi i lupi Cercano di impedire Comunque questo rituale Vada a buon fine Grazie Maris Grazie Sei sicuro in queste città Oh, proviamo Sì? C'è il tuo cuore, right Joe? Sì, sei proprio hungry, right? Sì Ok, bravo Io ho paura se lo truccano da Lupo Mannaro Joe Manganiello Sto prendendo un sento In questo modo, Jimmy Sì? Ah, beh Molto buono senti Siamo coinvolti dal direttore Doug Byer E dal direttore artista Taylor Ingverson Com'è, ragazzi? Com'è? Com'è? Com'è, ragazzi? Com'è, com'è Com'è Quindi Maris ha parlato con noi Un po' del mondo E la storia di Midnight Hunt Ma io volevo Dicare più profondità Sì, certo Dicare più profondità Vediamo Vediamo Andiamo un po' più in profondità Ok Ribadiscono il fatto che Per gli umani è ancora più Difficoltoso Perché la notte è più lunga Eccetera Ok, se nessuno fa niente La notte sarebbe perenne Ah, quindi Uh Terre doppie, terre doppie Quindi c'è della neve Ma fammi vedere cosa fa Non mi interessa l'arte adesso Ok Ok Entra tappata A meno che non controlli Altre due terre In generale Quindi sono delle Tangoland Ma che non contano Le basic Ma qualsiasi terra Non male Non male Vabbè, ok Queste le abbiamo già viste E quindi è il È il complementare Delle Fastland È esattamente il complementare Delle Fastland Che entrano stappate Dal Dalla Terza terra In poi Essenzialmente Oh, anche sulle Jadar 1-1 costo 2 All'inizio del mantenimento Se non controlli Creature con Decayed Crei un 2-2 Zombie con Decayed Sì Che potrebbe Dabbledo In le dark arts E Controllate Zombies Sì Pensavo di dare Il mio hair cut Ma Sì 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 Il tuo hair E il tuo nail Si cresce Dopo Sì 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 Ogni zombie Ne ha bisogno di una buona barba Sì È una Quota che ho sentito Alla tempo Sì E E qui è Jadar Nella Showcase Di Trinale Bello Molto creepy Molto creepy DZO L'artista Esatto Greg È sicuramente quella One storyline So Just kind of like Everything else And this time around On Innistrad It really Lien's into The day night Cycle being All jacked up And really wonky So The sun is kind of Opposita of the moon So we really wanted To think about What could be high contrast And opposites And artwork And that led us To the inspiration Of jumping back Into old classic Movies And movie posters The black and white Ah ok, ha usato il bianco e nero proprio per accentuare il contrasto tra buio e luce Probabilmente Alessi Ok Questa è già stata rivelata Eccola qua Di fatto è la vecchia meccanica dei lupi Ma fatta un po' meglio Quindi lei entra Day Se non si lanciano magie diventa l'altro E se si lanciano due magie rigira Quindi è esattamente la vecchia meccanica dei mannari Arlin dopo la guardiamo bene perché ho fatto in tempo a... Ma che bella è Equinox Showcase Ma bellissima Veramente bella Sembra Ah e c'è anche Oh mio dio Anche la versione da suora La versione suora Ricordiamo che Arlin era una combattente di... Gold Knight Di notte dorata Sotto Gisela Mettetene qualcuna di versione Esatto Dettendo Perché da moon Eccolo 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 Come Dettiamo Lo Gittim Eccolo Pur Ma Puig Oh, comandante. 3-3 questo 3? Perché ne fanno vedere così poco? Quando fa da un comandamento a un giocatore peschi, all'inizio del tuo mantenimento se controlli tra più lupi o mannari diventa notte, poi trasforma in qualsiasi numero di mannari che controlli. E ogni qualvolta è uguale e un lupo o un mannaro a costo x prende più x più zero, va bene. Lo fanno davvero, non è che toccano qualcuno da mannare. Carino, carino. Fa pescare, quindi ci sta. E' figo che col nuovo Warding possono dire una cosa tipo di ventanotte. Molto bellino. Ok, quindi questo è un nuovo branco di mannari che però è cattivissimo e fortissimo. Perché Tovolar, umano, riesce a tenere testa a un mannaro standard. Ciò che essi sono fenomenali. Questa sono solo due arti. E' tutto un lupus. Sarebbe figo se facessero una carta che in qualche modo ricorda lupus. Ah, ok, dicono sono. Questo nuovo branco è talmente più abituato a rimanere in forma di lupo che anche i vestiti li mettono più larghi apposta, i bracciali più larghi perché così quando si ingrossano stanno giusti e cose così. Figo. Ok, vediamo gli umani. Quindi il cuore dell'alba o il pocolare dell'alba. Non ho capito se è heart o heart. E quindi sono delle streghe dei warlock che aiutano gli umani per cercare di fermare questo processo di allungamento della notte. Uh, sigarda. Ok. Sembra uno sfiritello. Quattro volte questo fatto a volare e travolgere gli umani per un più in più uno quando attacca e si controlla i tre o più creature con forze diverse che penso sia quello Coven guarda le prime cinque carte e poi rivelare un umano e aggiungerlo. No, bianco-verde, bianco-verde. Oh, occio. Bella. Bella. Se va alla pose era molto fatina. Quindi diventa molto più legata alla natura in qualche modo. Sono le candele fluttuanti a quanto pare. Ah, questa era quella che era stata liccata. Zero quattro, costo quattro. All'inizio del tutto, nel combattimento metti un più uno più uno su una piattura che controlli. Poi se controlli tre o più piatture con forza diversa, peschi. Non ha ex-proof cigarro. Allora, si può sentire una con la natura e una con la calma e l'acqua che questo evento fa. Quindi Arlen è comunque preoccupata per gli umani. Ah Ok quindi Teferi confermato Ah c'è solo l'arp Ah con le fasi della luna Così lui essendo un mago temporale Uh interessante Molto interessante Perché si sono conosciuti durante War of the Spark Giustamente Vedremo cosa fa Secondo me lo faranno giocare con la meccanica del giorno e della notte E quindi non vedrà gioco se non in standard Ah ok quindi il Celestus è questo coso qua È questa mega meridiana Uh la chiave di Selen Argento Uh 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 Oh c'è Investigate C'è questa magia stato giusto Hanno tolto il flavor text Perché è uno spoiler È in Midnight In Midnight In Midnight Hunt Quindi Investigate è la terza meccanica Che torna Vrenet e feri esatto Vrenet e feri esatto Sì hanno trovato il modo di far investigare comunque Ok web fiction quindi magic story suppongo Ecco questa mi interessa leggerla in tempo reale Eh già finito Nooo Com'è già finito Oddio È vero il trailer Io volevo un trailer Io volevo un trailer Sì è un professionale messa qui Oh Eh guarda Sono più curioso di chiunque se Joe va a diventare un vero Ma ho bisogno di andare Quindi uh Bene 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 Eh Previews sono iniziato ora Quindi sicuro di sign up E attenzione a settembre 16 Per la lancia di Midnight Hunt Per la lancia di Midnight Hunt E magari ci saranno alcune altre cose speciali Ooooooo Per andare con E anche se puoi andare a vostra localizzata Per la lancia di settembre 17 Sì Sì Grazie a tutti per chiederti con noi E ci vediamo la prossima Allora Ciao 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 Buona cosa Vuoi avere un po' di mangiare o qualcosa Oddio 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 Che cosa cringe quest'ultima Trailer? No eh Ok È stato firmato Bla 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 Vediamo Come al solito Stiamo qua fino alla fine Ah C'è la lettera d'invito Eh Save the date Olivia Ok Però trailer mi sa che Mi sa che Mi sa che No Per l'appunto Sono molto triste Sono molto triste Perché era un bel trend Quello dei trailer Fatti in CGI A quanto pare Non piace più Allora qua possiamo chiudere Dunque 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 Così lascio una volta che esce anche la seconda versione di espansione Beh È un'espansione a parte in realtà Secondo me se non l'hanno fatto qua Non lo faranno neanche con Crimson Vow Di Mickey Buonasera Buonasera Eh Si vede che erano un costo A questo punto Perché Sembra che il trend sia quello Oh Questa cosa Costa E non fa fare guadagni immediati Tagliamola È un po' Ma secondo me Non lo fanno uscire con Crimson Vow Comunque Però Vedremo Allora Per quanto riguarda Arlene Cord Ve la posso far vedere Perché Perché Io l'avevo già Preparata Già Tradotta Da me Quindi non so se è uscita una traduzione ufficiale nel frattempo E Quindi Così Facciamo anche un recap Di Tutto quello che è stato detto Allora Daybound Nightbound Anche io mi aspettavo qualcosina di più Mi aspettavo anche che durasse qualcosina di più Semplicemente Vogliamo vedere Teferi scarso Sì Secondo me sì Nel senso Da standard Ecco Mettiamola così Un Teferi da standard E Quindi Nightbound E Daybound Daybound Se un giocatore non lancia magie durante proprio turno Diventa notte Il prossimo turno E quindi Trasformi all'inizio del mantenimento Le cose dei Bound Nightbound Viceversa Se un giocatore lancia almeno due magie durante il proprio turno Diventa giorno il prossimo turno Quindi Ehm È la vecchia meccanica Rewardata Risistemata Col fatto di mettere all'interno il concetto di giorno e notte Proprio come concetto di gioco Però Secondo me Cambierà Non tantissimo Se non appunto addirittura dare più possibilità Come Il Il lupo Il mannaro leggendario Che dice Quando controlli Tre o più cose Diventa notte E quindi E quindi Diciamo In automatico Trasformi al prossimo turno Esatto A me va bene Tipo quello di M21 Alla fine Era forte Carino Ma Non ha Subito Chissà che Potenziamento Quindi la nostra cara Arlin Costa 4 Con 4 Col più 1 Dice Fino al tuo prossimo turno Puoi lanciare creature come se avessero lampo E ogni creature che controlli Entra in campo Con un segnalino più 1 più 1 addizionale Meno 3 Crea 2 pedine creature Lupo 2 2 verdi Carina Mentre dall'altra parte In versione lupo Ha un più 2 Aggiungi Rosso verde Quindi aggiunge mana 0 Diventa Una creatura Mannaro 5 5 Contravolgere Indistruttibile E rapidità Ci sta Anche questa in realtà Carina Ha un Arlin Decente Secondo me Questa è un Arlin Abbastanza Carina Si protegge Da una parte Può menare dall'altra Ed eventualmente Fa mana E' carino E' carino L'effetto 0 Amico delle Vrat Esatto Esatto Bellino Diciamo che Non è Eccessivamente Di micchia Come invece Lo sono sempre Cioè Non lo sono sempre È stata la sua Prima versione La seconda Quella di World Spark Uncommon Era anche una di quelle Più scarsi Uncommon Quindi non sto lì a Diciamo Metterla in mezzo Quindi questa è la Meccanica dei Mannari Questa è la Meccanica dei Mannari Trasforma Diciamo La trasformazione Con le spell Del turno È diventata Day and night Day bound Night bound Pure mono verde Esatto Tra le altre cose Quella di World of the Spark Poi Flashback L'avevamo già visto C'è quella Nuova Keyword Delle Pedine Che magari Potrebbe anche Non essere solo Su delle pedine Ma prevalentemente Su Che è Decayed Quindi Consumato Marcio Essenzialmente Sì Aveva Però costava Sei Comunque Un Lord a sei È un po' Inutile Cioè Rispetto a Anche Tibalt Ancommon Era un rapporto Secondo me Che almeno Costava di meno Faceva anche lui Token Aveva Ci stava Arlin O Rikia Più Tardi E E Quindi abbiamo Questo Decayed Che è Quella Keyword Che diceva Maro Che permetterà Di Far costare Di meno Essenzialmente Gli effetti Che hanno Pedine Nel momento In cui Le pedine Avranno Questa Cosa Che vuol dire Che non Possono Bloccare E che quando Fanno Danno Si sacrificano Che in realtà Ci ho azzeccato A metà Perché io Avevo pensato Che avessero Diciamo Keywordato Quella Parte Delle pedine Del comandante Drago Di D&D Che crea le pedine 5 e 4 Ma che quando fanno Danno Devi sacrificarle Di 1 e nottuno Verrà applicato Anche ai vecchi Mannari Secondo me Sì Perché di fatto È uguale Cioè con i vecchi Mannari Diventa Diventa Cioè non cambia Niente Quindi secondo me Lo fanno Anche perché In questo modo Con tutti i Mannari nuovi Puoi fare Il commander Con quel comandante Che sfrutta Diciamo Il warning Nuovo Giorno Notte Secondo me Comunque vedremo Non so se magari Lo diranno già In un articolo O meno O Dobbiamo aspettare L'update Dell'oracolo Sfrutta nel simone Notte a sinistra Le carte vi faccia Per applicarlo Vabbè Può essere Alla fine Giorno e notte È comunque Una condizione Del campo Non è legato Prevalentemente A quello Si attaccano Decayed Non quando fanno Danno Allora ho letto Male io Prima Anzi adesso Mi fate andare Un secondo Sul sito Wizzy Articoli Dovrebbe essere Uscito Giusto Assolutamente Sì Ah è già Uscito È già uscita La prima Magic Story Episodio 1 La strega Dei boschi La strega Dei boschi Allora Fatemi Vedere Collecting Meccaniche È uscita Anche la I dettagli Della I dettagli Della mastery Per arena Se siete interessati Andate sul sito Ufficiale Allora Allora Daynight Pupupu Deppi Papapapa Sono uscite Altre Altre Common Uncommon Con le varie Meccaniche Non c'è Decayed Non c'è Decayed Nelle meccaniche Come è possibile Che cacchio Niente Collecting Stavo guardando Vediamo se fosse qua Sono usciti i prodotti Scusate se sto guardando Hanno già spoilerato Le nuove Carte Da Commander Ok Ok Va bene Dopo le Dopo le Le metto Sulla pagina Eccolo qua Decayed Non può bloccare Ah Quando attacca Sacrifica La fine della combat Quindi ancora peggio Ancora peggio Ok 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 perfetto Perfetto Sono già uscite Le carte nuove Di Commander Ok Ma questa non me l'aspettavo Sinceramente Ok Quindi Quindi Decayed Day and night La trasformazione Quindi di conseguenza E poi Le meccaniche nuove Che sono Disturb Disturb Che è essenzialmente Flashback Dal cimitero Ma Trasformata Infatti vedo Che anche L'altra Creatura Un'altra Creatura Che hanno Spoilerato È Un vanilla Essenzialmente Un 2-1 A costo 2 Che ha Disturb 2 E torna come 1-2 Volare Che se sta per essere messo in un cimitero Esiglialo Quindi suppongo Che Quasi tutte le carte con Disturb Che sono Saranno Penso siano Quasi tutte Creature O comunque Permanenti Quando stanno per andare al cimitero Verranno esiliate Per appunto Magari evitare di Continuare a castarle E magari C'è qualche Rara Barra Mitica Che non ha Questa cosa E che quindi È un qualcosa Che hanno pensato Comunque Che potesse essere Carino O forte Poterlo Reiterare Costantemente Li sto guardando Sul sito Ufficiale Di Magic Chandra è su Innistrad C'è un flavor text C'è qualcosa Aspettate allora Che facciamo una cosina Simpatichina Andiamo qua Fatemi fare una cosa Fatemi andare un attimo Scatti Mentre carica le pagine Che così Ci guardiamo Insieme Gli articoli Che sono usciti Li apro tutti Booster Fun La Mastery Non mi interessa Le meccaniche Collecting E i prodotti Allora Amici 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 Qua Via Facciamo Facciamo Così facciamo Una Ok Poi Ingrandisco Ingrandisco Direi che Ci siamo Vero Tanto dobbiamo Guardare le immagini Eccole qua Quindi Questo è Booster Fun Quindi Le varie Trattamenti Quindi c'è L'Equinox Showcase Che è Quella che abbiamo Visto Quindi questa Frame Molto Carino Da festival Autunnale Eccetera Con Anche Vediamo Che si Gira Ok Poi Andiamo Avanti Showcase Eternal Night Or Black And White Card Quindi Le leggende Building Detention Ok va bene Comunque le leggende Penso a meno che non abbiano L'Equinox Saranno Avranno anche la loro Versione In bianco e nero Poi ci sono Le terre base Full art E queste le avevamo Già viste Poi il Tradizionale E poi ci sono Le full art Classiche Tra cui Appunto Le terre Entra tappata A meno che non Controlli due O più altre Terre Quindi dal terzo Turno Entrano stappate Comunque da quando Si hanno Almeno tre terre Compresa Lei stessa Il nostro amico Gavin ha fatto il video Quindi Eventualmente Ce lo si può andare a vedere Poi Meccaniche E qua abbiamo Daybound E Nightbound Quindi questo è un 2-5 A costo 3 Scusate No a costo 4 Letto bene Con daybound Quindi se un giocatore Non ha lanciato magie Di ventanotte E penso Eccole qua Qua c'è day and night Se diventa giorno O notte O se un permanente Daybound Entra nel campo di battaglia Segna Ok Segna il giorno O notte Per il resto È la partita Quello che avevo detto io Quando diventa giorno Trasforma tutti i permanenti Notturni E Viceversa Mentre diventa notte Trasforma tutti i permanenti Diurni Quindi Easy Quindi diventa notte E all'inizio del mantenimento Si gira E diventa un 6-5 Vabbè Come un'accia Ci sta Comunque Meccanicamente È uguale Identico Alla vecchia meccanica Semplicemente Hanno Fatto Il token Per tenere conto È il fatto Di dare Comunque Anche Nell'immaginario Il fatto Che sia giorno O notte E in base A se è giorno O notte Trasformare Quale lato Essenzialmente Che comunque Appunto Ripeto Non cambia niente Rispetto a come era prima Semplicemente Hai un Aiuto grafico Che ci sta È una cosa Che Su cui continuano A puntare Soprattutto quando Tornano su Vecchie meccaniche Quindi se faccio Il vecchio A 6 dal cimitero Faccio diventare Notte No Perché È solo Quando Diventa Giorno Se diventa Giorno Notte O se un permanente Day bound Entra nel campo Di battaglia Inizia a tenerne conto Quindi Il vecchio Che è qua Che vabbè È qua nel video Ma in realtà Come questo Che ha disturb E che quindi Entra Trasformato Non fa Innescare Il ciclo Giorno Notte In un certo senso Quelli che lo fanno Innescare Quelli che sono Quelli che hanno Day bound E night bound Punto Esattamente Come Diciamo Non cambia niente Rispetto Alla vecchia Meccanica Come appunto Nella vecchia Inista C'erano altre cose Che si trasformavano In modi diversi E che ovviamente Di cui non dovevi Tenere conto Se ho lanciato magie O se Non le ho lanciate Uguale Solo che adesso Ti Hai un reminder Che ok Ho giocato Un mannaro Che ha questa meccanica Di lanciare Non lanciare magie E Devo tenerne conto Con questa pedina Sei giorno Notte No no Non cambia Assolutamente Niente Così a occhio Semplicemente Hanno Reso un pochino Più flavorful La meccanica E le hanno dato Dei termini Specifici Per tenerne traccia Cosa che prima Ovviamente Non c'era Poi c'è Coven Quindi Il La meccanica Diciamo Delle streghe Degli umani Che controlla Se hai Tre o più Creature Con forze Differenti Per esempio Questo è l'inizio Del combattimento Secondo Trolli te A travolgere Fino a fine Il turno Vabbè Comunque Comuni Giusto Per far Capire Se hai giorno E la lanci Dal cimitero Trasformata Cosa succede Niente Hai lanciato Una magia Basta Sì Secondo me Li metteranno Greg Ah ok Coven E anche su Abilità Attivate Quindi per esempio Candle Trap A costo 1 La creatura A difensore Creatura incantata Preveni tutelando Il combattimento Che verrebbe inflitto Dalla creatura Incantata Forte E a costo 3 Sacrifica Esilia La creatura Incantata Attiva solo Se controlli Le creature Con forza diversa E anche Sugli Instant Quindi per esempio Questa Costo 2 Instant Da più 2 Più 2 Fino alla fine Del turno Se hai Coven Peschi anche Una carta Ok Diciamo Il classico Condizione Che sarà Su un botto Di carte E che quindi A cui hanno Dato il nome E questo è Quanto Sulle Meccaniche Collezionismo Va bene Booster Fun Le abbiamo Già viste Qua Vediamo Bene Le art Di Arling Che ha Il cucciolo Di lupo Che è Bellissimo E La versione Appunto Mannara Questa Potrebbe Essere Un art Come Da flashback Durante la sua Prima trasformazione Sarebbe carino E queste qua L'abbiamo Già viste Poi Draft Booster Ah giusto È vero Che c'è C'è lo slot Delle Double phase Come in Innistrad Originale Quindi Abbiamo Ah Ok 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 Quindi Abbiamo Slot Single Faced E Slot Double phase Quindi con le carte Bifronti Quindi abbiamo Uno Sempre In una Draft Booster Una Common Che è Double phase E Una Non Common Di qualsiasi Rarità Double phase Oltre Alla Single phase Ah Attenzione Questa è interessante Allora C'è una rara O mitica In ogni Busta E va bene Se la carta Double phase È rara Mitica La single phase È uncommon Ah E viceversa Quindi c'è Comunque sempre Una sola rara Che può essere Se è una double phase Allora non è La single phase Se è la single phase Allora Non è la double phase Ok Non so se Mi sono Inteso Diciamo Diciamo che Si escludono Se uno Di quei due Slot È la rara L'altro È a un uncommon Ok L'hanno Gestita Penso sia Particolarmente Difficile Da fare A livello Produttivo Una cosa del genere Sono stati bravi Se l'hanno fatto Veramente Abbiamo le carte Che ci segnano Le trasformazioni E non abbiamo La lista Stupida Ma possiamo Scrivere noi Grazie Grazie mille Così possiamo Scriverci anche Il testo Bravissimi E anche qua Dietro mi sa Che c'è un art Da fare Full art Poi Set booster Non ho capito bene C'è essenzialmente Nelle draft booster Per evitare Che ci sia La doppia rara E che ci sia Sempre una sola rara Se quella rara È avendo Uno slot Dedicato Alle single phase E una dedicato Alle double phase Con rarità alte Se Uno di questi due slot È la rara L'altro slot È l'ancurale Common Punto Per assicurarsi Di avere una sola rara O mitica All'interno della busta Set booster Allora Allora Ah le hanno Ok ok Quindi abbiamo La full art La terra full art La token O dal The list Tre Common Una sola faccia Due uncommon Una sola faccia Ok Ok Oh cristo Allora Due Due Common Uncommon Che possono essere Sia singola Che doppia faccia Ah Ok 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 Può essere Una showcase Equinox Sia single Che double phase Oppure Se non è equinox È Garantita Double phase Regular Va bene Bordello Due Double Single phase Di una qualsiasi Rarità Attenzione E possono essere Equinox Eternal Knight Borderless O Carte da commander Carina Questo cambiamento Mi piace Cioè le jolly Sono anche Carte da commander Cosa che Non avevano fatto Prima Quindi Ok Poi c'è la foil Che può essere Una qualsiasi cosa E La rara O mitica Che può essere Qualsiasi cosa E L'arp Card Va bene Ok Diciamo Hanno tolto i I jolly Hanno Possibilità Di essere Ulteriormente Delle showcase Cosa che prima non era Se non sbaglio Esatto Ci sono Due slot Jolly Ma in questi slot Jolly Possono esserci Anche i trattamenti Showcase O delle carte commander Cosa che Prima non era Così Erano I jolly Erano sempre Regular Mi pare Mi sembra Di ricordare Almeno Io non ho ricordi Di aver trovato Anche rare O mitiche Contrattamenti Speciali All'interno Degli slot Jolly Quindi forse Hanno cambiato Quello Pippir Pippir Colletto Vabbè Colletto Sto neanche lì Sarà un bordello Quattro foil comuni Due foil Uncommon Una foil Rara Un extended Art Main set Rara Un extended Art Commander Rara Due showcase Equinox Common and Common Una foil showcase Equinox Common and Common Una showcase Borderless Borderless Rara Rara Mitica Una foil Showcase Borderless O extended Art Rara Mitica Vabbè Non sto neanche E una foil Basic land Solo una Sprecatoni Proprio Potevano metterne Due o tre Vabbè Qui abbiamo Il Trattamento Per il Compander Mi Trattava Bene Li abbiamo Già Visti Negli altri Articoli E qua Invece Abbiamo Ok I box I set Booster Sono tornati ad avere Un'unica Art Esclusiva Sulle Booster Ecco Qua Queste Sono le nuove Carte Da Commander Che puoi trovare Nelle set Booster Allora Beyond Change Ok Cambieranno la lista Aggiungeremo Altre carte Che operai In altri modi Nelle set Booster Puoi anche aprire Le quattro nuove Le carte Leggendarie Più Alcune carte Nuove Che non si Come che non si Trovano Nei mazzi Commander Ma come Cioè Queste sono Carte Da Con Legalità Commander Esclusive Delle set Booster Cioè E quindi E tra l'altro Cioè io ho letto La prima Io ho letto La prima Poi non so voi Memoriale di Avacin Che fa Il verso Al memoriale Di Acroma Le posso Comprare Mortacci Vostra Cioè Cioè Avacin Memorial Artefatto Leggendare Che costa Esattamente Come Acromas Memorial Che ha Gli effetti Dell'angelo Quindi è un indistruttibile Che dà Ah no Aspetta È molto Più scarso Gli altri Permanenti Leggendari Che controllano Indistruttibile Ok Ok Non ne sento più L'impellente Bisogno Non ne sento più L'impellente Bisogno Però è molto Bello Eh Maledetti Però Allora Sono Allora L'avevo letta Male Non avevo letto Quei leggendari Quindi mi aspettavo Oh mio dio Se la serie le vuoi Allora spendi E non rompi Eh A quanto pare Farò così Tra l'altro Bastardi Che sono tutte rare Maledetti Ok In realtà Non Allora Non mi lamento tanto Vediamo le altre A costo 5 È un ciclo Visioni di gloria Crea Un umano 1-1 Token Per ogni creatura Che controlli L'articolo Si chiama The Boosters And Products Of Innistad Midnight Hunt Ed è sul sito Sul sito ufficiale Di Magic Vai nell'archivio Se non lo trovi In prima pagina Vai nel Daily MTG Archive Comunque È sito ufficiale Non 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 Mi sto inventando Niente Sì Sono tutte rare Perché Eh lo so Nello slot Delle set booster Dove però Puoi trovare anche Le common E le uncommon Bastardi Potevano mettere Fare delle common Uncommon Niente Tutte rare Quindi questo qua Ti crea Un token Per ogni creatore Che controlli A flashback A costo 10 Ma costa X in meno Questo flashback Dove X È il valore Di mana Più grande Di un comandante Che possiedi Sul campo di battaglia O in zone di comando Attenzione Questo Potenzialmente È forte Carino In realtà Non Sgravatissima Che costa 5 Ed è sorcery Non sono fortissime Fortunatamente Poi Visions Of duplicity A costo 3 Scambio il controllo Di due creature Avversario Che non Controlli Ok Interessante E anche questo A flashback Interessante Quindi vuol dire Che Scambio le cose Tra gli avversari Quindi non Fortissima Visioni di terrore Un avversario Mette una creatura A sua scelta Dal suo cimitero Sul campo di battaglia Sotto il tuo controllo A costo 3 Meh Meh Uh Una curse Un anatema Costo 5 Incanta giocatore All'inizio Della acquisizione Del giocatore incantato Quel giocatore Pesca due carte addizionali E all'inizio Della Endstead Della sottofase finale Del giocatore incantato Quel giocatore Scarta la mano Ah Interessante È anche da mettere Su se stessi Quindi Ah ok ok Io l'ho trovato Nell'archivio Comunque DocGiga Esatto Greg Bravissimo Poi c'è Visioni di rovina Ogni avversario Sacrifica un artefatto Per ogni artefatto Sacrificato in questo modo Tu crei un treasure Ecco Questo è interessante Questo è carino Flashback enorme Però questo è bellino In realtà Non è brutta E visions of dominance Con No vabbè Guardate Il ranocchio Che si Specchia e vede Il gitrog monster Con anche il braccio Penzolante Della vittima Stupendo Stupendo Stragoneria Questo 3 Metti un segnalino P1 P1 Su una creatura Versaglio Poi raddoppio Il numero Il segnalino Su di essa Vabbè Nè Tutte di Andrew Mar Sì Sono tutte di Andrew Mar Questo ciclo Bello Carino Simpatico Non sono sbroccate Non mi strappo I capelli Se non le trovo Ecco Non mi strappo I capelli Se non le trovo Dai Sono stati Abbastanti Sono stati Bravi Non hanno fatto Le cose Fortissime Molto particolare Hanno fatto Un flashback Che costa Infinito Con un bello Sconto Potenzialmente Però dipende Dal comandante Ci sta Ci sta Ah Bastardi C'è un'altra Rara mitica Che si può trovare In questo modo Ma la riveleranno Riveli rileveranno La riveleranno Giovedì Giovedì Prossimo Eh esatto Quella dei tesori È quella che mi Sembra più forte Quella dei token Costa comunque Tanto Costa comunque Cinque Questa è forte In una È mazzo Leggendario Ma costa Comunque Otto Con Avacin Costa uguale Ma Avacin Hai Intanto 1-8-8 Volare cautela Indistruttibile Ma da indistruttibile A tutti gli altri Permanenti Cioè Siamo lontani Anni luce Da tutti i permanenti Più Creatura cicciona Bella A artefatto Che non fa niente E che da indistruttibile Solo agli altri Permanenti Leggendari Siamo veramente Anni luce Lontani Di tutte Queste Questa La salvo Questa è carina La visions of ruin Tra l'altro Io la sto Cerchiando Con il cursore Ma voi non state Vedendo il cursore Quindi mi sento Un po' stupido Bellina Dai Una novità Che Non so se mi piace Ma finché Il livello delle carte È questo Mi trovo indifferente Poi qua Spiega tutte Le cose Dei set booster L'abbiamo già vista La baia box L'abbiamo già vista Draft booster Blablabla Ok Dice che Le varie common Uncommon Possono essere Anche Showcase Ok Diciamo Nulla di Diverso Collector booster Psichedeliche Ok Contenuto Ce ne frega Prelease pack Ok Questo è Prelease Questi sono I dadi Che Secondo me Sono uguali Ai soliti Sono anche I modelli 3D Sono anche un po' bruttini Un po' pixelati I mazzi commander Quindi abbiamo Coven counters E undead unleashed Carini i nomi Non so se mi piace La nuova grafica Non so se mi piace La nuova grafica Mi sembra un po' Troppo Moderna Non lo so Non lo so Quella dei D&D Dei mazzi commander D&D Mi è piaciuta Un botto Era bellissima Questa mi lascia Un po' Indifferente E qua abbiamo Questa qua Quella che era stata Spoilerata per sbaglio E il nostro amico Che finalmente Riusciamo a leggerlo Non alla velocità Della luce 3 3 Questo 4 Ogni volta Un altro zombie Che controlli Muore Se non aveva Decayed Crei uno zombie Con Decayed Ok perché giustamente Triggererebbe Anche con le pedine Questa cosa Che non è male E all'inizio Della tua end step Puoi sacrificare Uno zombie Se lo fai Peschi una carta Carini Quindi però All'inizio Della tua end step Ok quindi Lui vuole Che sacrifichi Gli zombie Senza Decayed Per pescare E per comunque Fartelo sostituire Con uno zombie Con Decayed Finalmente Li puoi usare Per contare la vita Esatto Questa Non mi piace Come commander Mi sembra Un effetto Troppo Poco Utile Per quello Che ti serve Per farlo Se gli facciamo Perdere le abilità Facciamo zombie Infiniti Sì Se facciamo Perdere le abilità Alle pedine Sì Sì Ci sono mannari Con il Brano Con il bianco Davanti bianco E dietro rosso Non penso Mannari Li ho sempre visti Rossi verdi Ma che è un mannaro Siamo sicuri So che ci sono le cose Che si trasformano Che sono anche bianche Ma non credo Siano mannari Ah o è uscito adesso State dicendo Perché allora Nel senso Non lo so Sto guardando Questo insieme a voi Ok Queste sono le cose Che abbiamo Finito di vedere Ah ok ok Allora Vediamo velocemente Gli spoiler Che dite Andiamo Su Mtgpx Eccolo qua Questo qui Brutal Qatar Vediamolo Insieme Quindi un 2-3 Costo 2 Quando entra O si trasforma In Brutal Qatar Esiglia una creatura Un avversario Finché Questa creatura Non lascia Il campo Di Bello Il fatto che Quando lascia Il campo Di battaglia Vuol dire Che possiamo Trasformarlo Ritrasformarlo E esiliare Più cose E diventa Il brutto 3-3 Con un attacco Improvviso Con un ward Paga 3 punti vita Bello Carino Molto Bellino E quello Là di prima Devi però Devi riuscire A togliere Le abilità Nello specifico Alle pedine Perché In quel modo Tu sacrifici Uno zombie Che non aveva Decayed Crei uno zombie Che ha Decayed Ma hai un effetto Globale Che ti dirà Le tue pedine Non hanno Abilità E allora In quel modo Quello zombie Può essere Risacrificato Eccetera Eccetera Molto bello Per fare Naya Werewolf Però Ora mi aspetto Mannari Eh esatto Cioè hanno Introdotto Il bianco Nei Mannari Ed è tornato Anche Karl Kompinski A fare Art Quindi molto Bene Molto Bello Carino 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 Mi piace Mi piace E qua ci sono i team booster Che va bene Ah e poi l'altra meccanica è Investigate Che tra l'altro anche quello non c'è nell'articolo delle meccaniche Ma che cacchio Fatemi rivedere Ma Secondo me non c'era Mechanics Day night About transforming double face card From day Transforming TT Disturb Coven No Non l'hanno messa Boh Vabbè Comunque c'è Investigate E basta Sì tre di quegli effetti Diciamo è noto Che fanno Fanno il gioco della sedia E continuano a esiliarsi Tra di loro Ah ok Ok Direi Che Ma Di solito le mettono anche le returning mechanic O lo integrano Cosa che Ultimamente fanno Integrare Tra l'altro sta andando via il sole Quindi sto andando nel buio O lo integrano magari domani O nei prossimi giorni Altrimenti è strano Che non abbiano messo Investigate Perché comunque Per chi inizia a giocare adesso Dica che cacchio è Investigate Non è bello Non sapere che cosa fa Non lo sa Cioè anche perché Tu dici una meccanica recente Alessio Ma Investigate L'abbiamo avuta In appunto Perché non so scrivere Non so scrivere Amici La Meccanica Investigate Parte Da Modern Horizons Il nome Il nome su Innistrad Che è comunque del 2016 Siamo quasi al 2022 Ok Quindi è recente No È visto Alessio Non è Explore Non è Explore Alessio È Investigate Che è Indagare In italiano Non è Esplorare Di Ixalan Investigate È Crea Una pedina Inditti O Artefatto È ben diverso È un'altra meccanica E comunque anche Ixalan È il 2018 Sono comunque quattro anni No no Alessio Confermo che Probabilmente ti stai confondendo Con Esplorare Che in inglese è Explore Non è Investigate Investigate è Indagare In italiano Quindi Quindi Mentre io sto entrando Nell'oscurità Per essere in tema Con tutto Direi che Noi ci salutiamo Ma in realtà Ci vediamo molto presto Perché su Facebook Devo Caricherò Sì sì Sia Ma beh Modern Horizons 2 Sicuramente È uscito tutto Su Modern Horizons 2 Però Modern Horizons 2 Ripeto Non ha senso Che Wizards Dica Ah ma tanto Una meccanica Che abbiamo fatto L'anno scorso Non la mettiamo Perché uno può Non sapere neanche Cosa sia Magic Che inizia a giocare Che inizia a giocare adesso Non è che può Andare a vedere Cosa è uscito L'anno scorso Non ha senso che Facciano questo ragionamento Quindi Espansione promette molto bene Io mi fiondo subito Negli spoiler Nel senso che Farò gli spoiler Mentre ceno E non sto scherzando L'ho già fatto Quindi non è un problema E Allora Torniamo un attimo qui Così vi saluto Come si deve In questa oscurità Che mi lambisce E Io spero Abbiate passato Un bel pomeriggio Spero che anche La Come si dice L'introduzione A Innistrad originale Vi sia piaciuta E Anzi fatemi Mi farei questa cosa Non è cambiato niente Va bene È cambiata solo Che la luce ora È da questo lato E Spero vi siate divertiti Spero vi sia piaciuto Come al solito Questo Diretta Indiretta Tutti sentiamo La La mancanza Del trailer Tutti la sentiamo Ne sono certo Ne sono certo E Io vi ricordo Mi potete seguire Sui social Che trovate qua sotto Facebook Twitter E YouTube Soprattutto Facebook Perché adesso Essendo la stagione Di spoiler Ufficialmente iniziata Devo aggiornare Gli album Della pagina Dove ci saranno Tutte le carte In italiano Con mia traduzione Opportunamente segnalate Altrimenti Album ufficiale Con la traduzione ufficiale Met Stile storia dell'orrore Effettivamente ci starebbe E Per il resto Vi ricordo Se volete supportare Quello che faccio Like Follow Nei vari social Condividete I video di YouTube Le live Che faccio su Twitch Ditelo Ai vostri amici E soprattutto Non plus ultra Sub Qui su Twitch Se volete Concretamente Aiutarmi a portare avanti I progettini Che ho in mente Nel frattempo Noi ci vediamo Mercoledì prossimo Sicuramente Per le letture Riprendono le letture Quindi Segnatevelo Alle 21 Ci troviamo qua Mercoledì E soprattutto Farò live Per gli spoiler Probabilmente Già lunedì Lunedì Faremo live E direi anche Giovedì O venerdì Prossimo Quindi Ve lo farò sapere Tramite i social Come al solito Sì Giza e Geralt Li voglio Dei nuovi Giza e Geralt Assolutamente Non possono non esserci Quindi Di nuovo Grazie mille Del supporto Come sempre Grazie mille Dei nuovi follower E della sub Ci vediamo Io ve la lancio Già lì Probabilmente Lunedì sera Lunedì sera Ci guardiamo I primi spoiler Che sono usciti Durante questi giorni E poi mercoledì La lettura Di Battle for Zendiker Quindi Di nuovo Grazie mille E ci vediamo Tra pochissimo Su facebook Con tutte le carte Che sono uscite E stanno uscendo Essenzialmente Buona cena O buona serata Dipende Grazie a voi Grazie a voi di tutto Come sempre Buona serata Ciao a tutti Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi